Addio ad Emilio Pietrelli, morto il direttore della Caritas di Pesaro. Vallefoglia, Ucchielli rompe gli indugi, si candida per il terzo mandato da sindaco. Agabice Mare si punta invece su Mari la Girolomoni per il dopo Pascuzzi. La sanità che non funziona, segnalazioni di o di sé per prenotazioni di visite. Accordo fra Regione e Ministero delle Marche viene prorogato il piano casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questa edizione di mercoledì 3 di aprile apriamo purtroppo occupandoci di alcuni lutti che hanno colpito la comunità pesarese. E' infatti venuto a mancare nella notte appena trascorsa Emilio Pietrelli che da 8 anni era il direttore della Caritas di Pesaro. Caro Emilio, l'amore per te sarà eterno come la tua anima. Un post sulla pagina Facebook della Caritas di Pesaro ha annunciato questa mattina la scomparsa di Emilio Pietrelli, direttore della stessa Caritas venuto a mancare nella notte dopo un lungo periodo di malattia che lo aveva debilitato senza però farlo mai recedere dalla sua missione al servizio della comunità pesarese e delle sue fasce più deboli. E' morto nell'ospedale di Muraglia circondato dall'affetto dei propri cari, dalla moglie Nadia ai figli Lucia e Federico. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo mese di maggio. Pietrelli era la guida della Caritas dal 2016, periodo in cui subentrò a Don Marco di Giorgio. 8 anni da direttore più altri 3 precedenti da vice direttore a testimonianza di un'esistenza costantemente trascorsa all'insegna dell'altruismo e della solidarietà. Un cammino preceduto da una lunga carriera professionale nel settore dell'autotrasporto che lo vide presidente di Federtrasporti e del consorzio CARP. Percorso professionale accompagnato da un fervente percorso di fede. Da 13 anni era diacono in servizio alla parrocchia di Santo Stefano di Candelara. Quella pieve che fu fra gli edifici religiosi pesaresi più danneggiati dal terremoto del 9 novembre 2022 e per la quale Pietrelli si batte per un ripristino ancora pieno di ostacoli. Candelara in cui risiedeva e in cui era particolarmente coinvolto nella vita del borgo e alla proloco assieme a Pier Giorgio Pietrelli, ideatore e tuttora direttore organizzativo di Candela Candelara. Emilio Pietrelli verrà commemorato domani giovedì 4 aprile alle 20 con il Santo Rosario nella chiesa di Santa Maria dell'Arzilla. Il funerale sarà venerdì alle 15 nel Duomo di Pesaro. Ed è invece morto ieri all'età di 87 anni Galeazzo Boatini, storico concessionario d'auto di Pesaro e fondatore di un'attività continuata tuttora dai figli Ferdinando e Francesco. Boatini si è spento serenamente mentre era nel divano di casa attorno alle 13. Ad accorgersi del trapasso la moglie Luisa che era nella propria abitazione assieme a Boatini. Se ne va uno dei più importanti punti di riferimento per generazioni di pesaresi nell'acquisto dell'auto, storico concessionario dell'Alfa Romeo nonché straordinario collezionista di auto d'epoca. Nuovo capitolo questa mattina al Tribunale di Pesaro del processo per l'omicidio avvenuto a Fano nel novembre 2022 in cui perse la vita la 23enne ucraina Anastasia Alasceri. Il marito Mustafa Alasceri rischia l'ergastolo dopo la brutale uccisione della compagna oltre all'occultamento di cadavere e la fuga intercettata dagli inquirenti alla stazione di Bologna. Oggi si sono tenute le deposizioni di chi è stato coinvolto nella parte investigativa dell'indagine. Il processo avrà però uno snodo cruciale il prossimo 24 aprile quando è attesa a Pesaro la mamma di Anastasia che arriverà dall'Ucraina dove è ora affidataria del nipote figlio della coppia coinvolta in questa tragica vicenda. La donna potrebbe testimoniare nel Tribunale di Pesaro in corte d'assise in merito agli abusi pregressi all'omicidio minando la tesi della non premeditazione sulla quale sta insistendo la difesa dell'imputato. Due interventi dei vigili del fuoco in poche ore questa mattina sulle strade della provincia di Pesaro e Urbino. Il primo avvenuto nella strada delle conce tra Urbino e Fermignano per sedare il rogo di un'auto alimentata a GPL. Un incendio che ha mai indato il tilt la strada che era molto trafficata in seguito allo stato di riapertura parziale della galleria Cagulino che già lo scorso 27 dicembre fu teatro di una grave tragedia stradale. Un altro intervento poco dopo mezzogiorno sulla statale 73 all'uscita di Calcinelli dove c'è stato un incidente fra un camion e un furgone. Il passeggero del furgone è stato disincastrato dalle lamiere e visti i seri traumi riportati è stato trasportato in elli soccorso all'ospedale Torrette di Ancona. Lasciamo la cronaca e passiamo ora alla politica con vista sulle elezioni amministrative del prossimo 8-9 giugno. Dopo aver temporeggiato a lungo Palmirucchielli oggi ha rotto gli indugi e ha deciso di candidarsi per il terzo mandato da sindaco di Vallefoglia. Dopo aver temporeggiato con gli ultimi giorni di riflessione il weekend di Pasqua ha rotto gli indugi. Palmirucchielli decide di ricandidarsi al terzo mandato da sindaco di Vallefoglia come vuole lo status del comune tuttora di poco sotto a quota 15.000 abitanti. E come vedete sono pronto, sono disponibile, sono un combattente che ha sempre dato una mano per migliorare e per fare le cose importanti per la città di Vallefoglia. Quindi l'impegno mio è fare ancora di più e meglio, se gli elettori lo vorranno, se ci daranno consenso, la nostra è una lista civica di persone per bene, oneste, serie, che vogliono fare le cose per il bene dei cittadini. Poi inventeremo anche personalità nuove di gente che è disponibile a seguirci. Però a me quel che mi interessava è sapere cosa pensava la gente. Io ho chiesto a tante, tantissime persone e la gente mi ha, diciamo, virgolettato, istigato a dire ma dai, 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 dai una mano a questo territorio che cresce sempre di più in armonia con tutti gli altri comuni confinanti, compresa la città di Pesaro, con il quale lavoriamo in perfetta armonia. Lavoreremo insieme all'impresa, ai cittadini, agli operai, alla gente per bene che ha bisogno di un'amministrazione professionale, solida e forte e per questo facevo fatica a dire non ci sto, mi riposo, mi godo la vita. Forse riesco anche a godermi la vita facendo il bene alla mia città, che voglio bene perché sono nato e cresciuto in questa vallata, in questo territorio, quindi se il popolo mi eleggerà farò di tutto e di più per non deluderlo come sempre. Uno sguardo al futuro del prossimo quinquennio amministrativo senza dimenticare la conclusione del mandato in corso, tant'è che l'annuncio di ricandidatura è arrivato a margine della presentazione degli investimenti che saranno realizzati con il milione di euro ricavato dall'ultimo avanzo di amministrazione. Dopo il precedente stanziamento canalizzato sulla riqualificazione del Palla Dionigi e ampliamento del Nido Pian del Bruscolo, ecco una pioggia di fondi dedicati a manutenzioni di strade, illuminazione pubblica, fossi e caditoie, nuovi marciapiedi, manutenzione di impianti sportivi, della piazza Marconi di Talacchio, del circolo sportivo di bottega, della mensa interaziendale di Talacchio. Stiamo lavorando fino all'ultimo giorno del mandato con il rispetto ai cittadini, agli elettori che ci hanno mandato un mandato a fare le cose. Non è un caso che abbiamo chiamato la vallata del foglia la valle del fare. E non si ricandiderà invece per un terzo mandato da sindaco di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi. Il centrosinistra della città costiera pesarese scommette allora sull'attuale assessora e vicesindaca Marila Girolomoni che oggi ha presentato il suo percorso di candidatura. Per il dopo Pascuzzi, il Partito Democratico e il centrosinistra di Gabicce Mare puntano su Marila Girolomoni. Una novità nel solco della continuità amministrativa, quella presentata questa mattina al centro civico Creobicce con la vicesindaca del comune costiero più settentrionale delle Marche che si è presentata come candidata per la lista insieme per Gabicce Mare. Ad una settimana dall'annuncio di Domenico Pascuzzi di non volersi ricandidare per un terzo mandato, il primo cittadino uscente ha idealmente passato il testimone alla Girolomoni. Avvocato, 38 anni, 15 dei quali trascorsi in politica di cui l'ultimo decennio ha guidare vari assessorati. Un'esperienza mixata a visione giovane per migliorare quanto già di buono si è fatto per Gabicce nell'ultima decade. Prima di tutto il resto amo la mia Gabicce Mare. Quindi qualsiasi progetto, qualsiasi mio impegno per far sì che Gabicce Mare possa continuare nel lavoro che ha fatto in questi anni, possa continuare a crescere, perché qui oggi andremo a parlare veramente di un rinnovato sviluppo turistico, di uno sviluppo del centro, una continua attenzione per il territorio, per i quartieri della città messa in sicurezza, quindi il dinamismo, lo sport, la cultura, le scuole che saranno una veramente delle nostre priorità. Tutte queste tematiche saranno all'ordine del giorno, all'interno del nostro programma elettorale, un programma che ovviamente viene portato avanti da me che quindi avrà tutto quello che sono i risultati ottenuti fino ad oggi, quale base di partenza per continuare a crescere. Al centro Creubice presenti questa mattina i più svariati portatori di interesse della comunità gabiccese, dal turismo al commercio, dall'associazionismo allo sport. La squadra di Mari Lagirolemoni punterà a miscelare continuità con recente percorso amministrativo e un rinnovamento dedicato in particolare alle fasce più giovani. Già annunciata infatti la presenza di Matteo Sanchioni, 28enne vicepresidente del Parco San Bartolo. Sarà necessario ascoltare tutti. Il vero progetto condiviso, le vere strategie, se dovranno seguire, a una condivisione. Saremo supportati dalle persone che avranno quindi quelle capacità tecniche per indirezzarci, per suggerirci e per darci quelle che sono le indicazioni giuste per far crescere Gabizio Maremonte. Io lo posso dire perché ovviamente è uno dei progetti su cui ho investito tanto in questi anni, quindi Gabizio Maremonte dovrà tornare ad essere quel fiore all'occhiello di tutta la riviera adriatica. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Oggi Rossini Tivo accende le sue telecamere su un caso di sanità che non funziona come ci testimonia ai nostri microfoni questa telespettatrice. Mi sono recata la scorsa settimana all'ospedale di Pesaro per prendere due appuntamenti, uno per una risonanza magnetica lombosacrale e uno per una visita neurochirurgica per mio babbo che al momento si trova a casa con un tutore ortopedico a causa di una caduta accidentale. Mi hanno subito detto che dovevo presentare le due impegnative del medico di famiglia quando avevo in mano già tutta la documentazione del pronto soccorso che mi attestava che mio babbo doveva ripresentarsi in ospedale dalle 4 alle 6 settimane dall'accaduto per fare la risonanza magnetica e la visita neurochirurgica. Chiaramente mi sono dovuta recare dal mio medico di famiglia per farmi fare queste impegnative ma nel momento in cui mi sono recata nuovamente in ospedale mi hanno detto che non c'era appuntamento per una risonanza magnetica e mi hanno detto proprio così che non sapevano dove mandarmi né tanto meno quanto farmela fare e io ho dovuto prenotare fuori regione. Il secondo in Gippo è successo nel momento in cui ho chiesto l'appuntamento per una visita neurochirurgica anche qui mi hanno detto che non c'erano appuntamenti disponibili se non che mi hanno detto signora lei ha una possibilità in più se dal suo medico di famiglia si fa fare l'impegnativa anziché a 60 giorni a 10 giorni. Così ho fatto ma mi hanno detto pure di tornare il giorno successivo alle 7.45 della mattina perché di prima mattina avrei avuto sicuramente l'appuntamento così è stato l'appuntamento l'ho avuto ma però pagamento ecco questa volevo concludere il tutto dicendo che ora mio babbo per fare una risonanza magnetica lombosacrale e una visita neurochirurgica ci impiegherà due giorni in due mesi diversi in due città diverse in due regioni diverse questa è la sanità italiana auguro a tutti di non stare male grazie ad un accordo fra regione e ministero della cultura la nuova legge urbanistica delle marche consentirà un'importante deroga al piano casa nelle marche vengono prorogati gli effetti del piano casa in via transitoria e fino al recepimento da parte dei comuni delle prescrizioni contenute nella nuova legge urbanistica ciò è stato possibile in virtù dell'accordo sottoscritto tra regione e ministero della cultura come previsto dalla stessa legge sul governo del territorio sarà dunque consentito ai comuni di autorizzare interventi edilizi in deroga al piano regolatore con incremento fino al 20% della volumetria nell'edificio previa deliberazione del consiglio comunale L'accordo con il ministero della cultura che consente alla regione marche unica regione in Italia insieme all'Emilia Romagna di poter proseguire anche con l'attuazione dei piani casa la deroga consentirà comunque di poter andare a portare avanti le attività legate al piano casa su tutte le parti dei territori tranne i centri storici tranne i centri storici non più con un ampliamento come ho fino ad oggi previsto fino allo scorso anno previsto del 40% ma per un ampliamento possibile fino al 20% perché appunto essendo una norma transitoria andrà a regime quando i comuni poi porteranno avanti i nuovi piani urbanistici quindi questa è una grande occasione e prosegue di sviluppo per la nostra regione che solo grazie all'attuazione della nuova legge urbanistica può essere consentito altrimenti i piani casa sarebbero già scaduti da due anni anche nella regione Marche così come sono scaduti in tutte le altre regioni d'Italia che è un risultato che contraddistingue per la nostra regione un'opportunità che invece in tanti altri territori oggi non c'è più quindi questo è un elemento significativo a cui vogliamo continuare a lavorare e che potrà diventare strutturale anche quando la nuova legge urbanistica potrà diventare un'opportunità strutturale che è a servizio della nostra comunità marchigiana a Pesaro sono in corso gli ultimissimi lavori alla circonvallazione di Muraglia dopodiché il 6 aprile alle 11 questo tratto della strada interquartieri sarà inaugurato intitolato alla memoria di Enrico Berlinguer per consentire l'ultimo step di asfaltatura il comune informa che dalle 23 di domani giovedì 4 aprile fino alle 6 di mattina di venerdì 5 aprile ci sarà il divieto di transito nel tratto di via Lombroso compreso fra via Barsanti e strada di San Nicola in corrispondenza dell'ultima rotatoria della nuova circonvallazione e domani giovedì 4 aprile alle 10.30 al mercato coperto Campagna Amica di Pesaro in Viaggio Litti è prevista l'iniziativa Degustiamo Pesaro una degustazione di prodotti a chilometro zero fornita dagli stessi produttori col diretti di Campagna Amica nell'occasione i cuochi contadini di Terra Nostra l'associazione che riunisce gli agriturismi legati a col diretti presenterà anche una ricetta per Pesaro 20-24 che lega il concetto di cibo di strada con i prodotti del territorio a chilometro zero questa mattina invece a Tavuglia è stato inaugurato il servizio di nido comunale la tribù dei piccoli realizzato all'interno del plesso che ospita anche la scuola dell'infanzia nascondino di via Borgo San Michele la struttura è stata interessata da lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria efficientamento energetico per un valore di 330 mila euro oltre a 144 mila euro per i lavori funzionali all'attivazione del nido che potrà ospitare ora 18 bambini e invece a Cartocento domenica 7 aprile alle 10 sarà inaugurata la nuova e attesa area di sgambamento cani di via 11 settembre un progetto realizzato non solo per fornire uno spazio di accesso libero ai cani ma anche un centro d'apprendimento grazie alla presenza di educatori cinofili potranno infatti essere svolte attività di addestramento e informazione per la corretta gestione del proprio animale si terrà invece ad Urbino dal 5 al 7 aprile il sesto Italian Youth Forum l'evento annuale dell'associazione italiana Giovani per l'UNESCO che promuove la partecipazione attiva delle giovani generazioni e della società civile un evento che quest'anno si svilupperà intorno al tema dell'acqua come patrimonio naturale e culturale circa 100 giovani soci AIGU da ogni parte d'Italia e altrettanti ospiti giungeranno ad Urbino per partecipare all'evento che darà l'opportunità di esplorare i temi cruciali legati alla gestione sostenibile dell'acqua basandosi sugli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU e chiudiamo il nostro telegiornale di questa sera con un servizio che arriva dal Teatro Cinema Loreto di Pesaro che oggi ha ospitato l'Assemblea Generale della CGL alla presenza tra gli altri anche di vertici regionali e nazionali del sindacato è stata dunque presentata una primavera di iniziative di mobilitazione Al Cinema Loreto di Pesaro si è tenuta oggi l'Assemblea Generale della CGL che ha ospitato più di 300 delegati appartenenti ad ogni declinazione confederale della provincia di Pesaro in quella che è stata la prima tappa di una mobilitazione che sarà ampliata a livello nazionale sui temi di sicurezza sul lavoro rappresentanza equità fiscale e autonomia differenziata un'assemblea alla quale hanno partecipato anche il segretario regionale CGL Santarelli e la segretaria confederale nazionale Maria Grazia Gabrielli questo diventa un momento di partenza per una fase di mobilitazione articolata che si svolgerà con più iniziative di carattere locale e nazionale rispetto dei temi estremamente importanti a partire da salute e sicurezza sul lavoro l'11 di aprile avremo una giornata di sciopero dei settori privati il 20 di aprile a Roma faremo una manifestazione nazionale in difesa del servizio sanitario nazionale e di tutto quello che attiene anche il tema del fisco e anche del punto salute e sicurezza la nostra iniziativa soprattutto è incentrata sul fatto di rimettere in moto la democrazia a partire dai luoghi di lavoro rifare partecipare lavoratrici e lavoratori rispetto a quello che avviene nel paese perché invece la tendenza nel paese che avanza è quella invece di una delega diretta se guardiamo a quella che è la proposta di riforma costituzionale che il governo sta cercando di varare attraverso il voto diretto al primo ministro si va verso una tendenza opposta noi invece crediamo che vadano riannodati i processi democratici e anche lo strumento del referendum che abbiamo deciso di mettere in campo e su cui proveremo a raccogliere le firme nelle prossime settimane nei tre mesi di maggio giugno e luglio ha anche questo profondo significato intanto uno sciopero di quattro ore per l'11 aprile insieme alla UIL per rivendicare due delle grandi questioni che il sindacato pone con forte attenzione nel paese il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che è diventata l'emergenza del lavoro e che quindi va affrontata con strumenti e azioni molto incisive il tema della sanità pubblica e quindi del ruolo del pubblico che riguarda gli investimenti per il futuro di questo paese e per il rispetto anche e soprattutto della nostra Costituzione rispetto al diritto alla cura e alle condizioni delle persone la questione fiscale perché in questa fase si sta discutendo di una delega fiscale nel governo che però non è incentrata alla equità e progressività e quindi ancora una volta non prendendo in considerazione quanto pesa la questione fiscale sul reddito delle famiglie delle lavoratrici dei lavoratori dei pensionati e delle pensionate in una condizione di oggettivo disequilibrio che il nostro paese vive dove non si vanno a prendere le ricchezze laddove ci sono e dove quindi il tema dell'equilibrio fiscale diventa anche una questione di giustizia e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale rossini news però non finiscono gli appuntamenti informativi di questa sera di mercoledì sul canale 80 a cominciare da ciò che avverrà subito dopo il tg con l'appuntamento periodico con il magazine la natura della cultura approfondimenti sugli appuntamenti gli eventi di Pesaro 20-24 capitali italiane della cultura che vanno in onda come detto oggi mercoledì ma anche lunedì e il venerdì in tre fasce orare quella delle 8 delle 13 e appunto delle 20 il tutto con riassunto della settimana il sabato alle 12 alle 19 e la domenica alle 15 e alle 21 prima serata invece dedicata all'ospediale su TEDx Pantano limiti orizzonti infiniti rivedremo tutto quello che ha riguardato questo particolare evento questa sera alle 21 e 20 a seguire alle 21 e 40 andremo invece a conoscere la 19 edizione della scuola per imprenditori che si focalizza quest'anno sull'intelligenza artificiale a misura di impresa una scuola per imprenditori portata avanti da 19 anni da confartigianato imprese Ancona Pesaro Orbino appuntamento come detto alle 21 e 40 poi vi ricordo come sempre l'appuntamento del mattino con l'informazione di Rossini TV quella di Buongiorno Rossini quella della rassegna stampa dei quotidiani locali come sempre in diretta dalle 7 e 20 domattina edizione della rassegna del giovedì che sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossini si chiude si chiude invece qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi di rassegna